Da sempre fedele ai valori e principi ispirati dal credito cooperativo, tra cui quello di favorire il bene comune, il Consiglio di Amministrazione della BCC di Castiglione, Messere Mondo e Pianella, a seguito delle eccezionali nevicate dell'inverno scorso, ha deliberato con voto unanime di donare una turbina con turbofresa da 200 cavalli alla provincia di Teramo, dove l'Istituto di Credito opera con 10 filiali. La cerimonia di consegna è avvenuta ieri mattina nella filiale di Viale Crucioli a Teramo ed ha visto la partecipazione del presidente dell'Istituto, Alfredo Savidi, e del presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, a cui toccherà il compito di gestire al meglio il mezzo nel caso ce ne fosse bisogno. L'acquisto di questa turbina dal valore economico di circa 200.000 euro avrà lo scopo di aiutare la struttura provinciale a far fronte alle emergenze del maltempo e ripristinare in tempi più brevi la viabilità nelle zone interne. La banca di credito cooperativo, come tutti sanno, è una banca differente, quindi noi siamo una banca di comunità e una banca del territorio. Nei momenti come quelli particolari che si sono avuti l'altro anno abbiamo sentito l'esigenza di essere sempre più vicino facendo questo dono alla provincia di Teramo, sperando che non debba essere utilizzato ma che se ci sono le stesse difficoltà che ci sono state l'altro anno abbiano la possibilità di sistemare meglio le strade del nostro territorio. La viabilità provinciale collega tutto il territorio provinciale e collega tutti i comuni per cui questo regale è un segno di vicinanza al territorio come peraltro questa banca ha già avuto modo di dimostrare in passato. Obiettivamente noi quest'inverno durante la nevigata abbiamo speso complessivamente 4 milioni di euro buona parte di queste somme sono andate a pagare gli affitti delle varie turbine e anche di altri mezzi che sono venuti da fuori regione.